Arrivati contro il signor Massa, assistenti, bottegoni, cono, quattro uomo, materna, var, risso, avare, costanzo, portazioni, Sampdoria, buuuu! Sampdoria, buuuu! Tacca Luca! Taccia Luca! Tacca Luca! Al 1900 in Giaciacama si chiama Società Sportiva Grazio! Con la maglia numero uno Tomas! con la maglia numero 29 Daniel Lazzari con la maglia numero 4 Giavallon Patrick con la maglia numero 33 Francesco Aspani con la maglia numero 77 Adam Adusic con la maglia numero 21 Seijei Rikovic con la maglia numero 32 Danilo Adalbi con la maglia numero 10 Luis Alberto con la maglia numero 7 Felipe Anderson con la maglia numero 17 il capitano Silvio Rikovic con la maglia numero 20 Mattia Ciacagli l'allenatore Maurizio Ciacagli a disposizione con la maglia numero 25 Elena con la maglia numero 31 Adamoris con la maglia numero 3 Felipe con la maglia numero 26 Radu con la maglia numero 16 Canalevic con la maglia numero 23 Isaii con la maglia numero 8 Acqua con la maglia numero 28 con la maglia numero 18 Romero con la maglia numero 11 Cabral Il dondisesimo fuoco in campo di oggi è Giulia Corazzoni con la maglia numero 21 Grazie.